Sono stati due giorni di confronto e verifica in stretto contatto con la regione. Il programma di finanziamento di agenda urbana prosegue nelle tappe che arriveranno alle procedure di gara per l'affidamento dei lavori. I funzionari comunali e professionisti esterni del gruppo di lavoro hanno avuto una serie di incontri con le strutture tecniche della regione che stanno seguendo tutte le agende urbane siciliane. Valutazioni sono state condotte dal capodipartimento della programmazione e dai singoli dipartimenti regionali competenti per gli ambiti toccati dai finanziamenti. L'autorità urbana affidata alla dirigente Antonino Collura e il gruppo di lavoro che da oltre un anno sono concentrati esclusivamente sui progetti hanno avuto pieno riscontro su quanto fatto fino ad ora. Il programma in corso è in fase decisamente avanzata anche rispetto ad agende urbane dei comuni più importanti dell'isola spesso fermi ancora alla sola progettazione. A seguito dell'azzeramento della giunta rimane più di qualche incertezza su chi dovrà occuparsi del settore sviluppo economico. Agenda urbana fin dal suo insediamento è stata monitorata dall'assessore Terenziano Di Stefano che ha più volte chiesto di accelerare soprattutto la regione per tenere il passo del gruppo di lavoro che ha da tempo chiuso l'intera fase istruttoria e per i primi progetti già con decreti notificati va alla fase di gara. Negli scorsi giorni a Palazzo di Città è stato notificato il decreto di finanziamento da oltre 3 milioni di euro per il polo dell'infanzia alla scuola Pirandello. Ora si avvierà la procedura per la gara. Il gruppo tecnico di agenda urbana e professionisti esterni, gli avvocati Vitalo Refici e Sara Bonura e l'ingegnere Stefano San Martino attendono gli ultimi decreti. In estate dopo diverse sollecitazioni gli uffici palermitani hanno ripreso le fila dei procedimenti che sembravano essersi arenati. Anche in questo caso è stato importante il ruolo politico del vice sindaco Di Stefano che ha scritto alla regione fino ad ottenere lo sblocco dei decreti. All'appello mancano solo gli ultimi in ordine di tempo. Con la crisi politica in atto funzionari comunali, professionisti esterni, ruppe e tecnici della regione stanno comunque proseguendo tutte le attività per evitare rischi e allontanare qualsiasi pericolo di perdere i fondi che per i progetti locali ammontano in totale a circa 20 milioni di euro. Chiaramente avere certezze anche sul riferimento amministrativo in giunta darebbe maggiori certezze intorno alle sorti dell'assessorato dello sviluppo economico che sotto la guida di Di Stefano ha aperto anche altre consistenti vie di finanziamento. Sembrano muoversi strategie politiche che solo con l'ufficializzazione della nuova giunta sarà possibile comprendere fino in fondo.